. . C'è paura per la salute di Sher, i tabloid americani hanno rilanciato la notizia che la 68enne cantante è affetta dalla sindrome di Epstein-Barr, un disturbo che colpisce il sistema immunitario rendendo chi ne soffre facile vittima delle infezioni batteriche e virali E Sher starebbe combattendo proprio perché colpita da un virus che potrebbe essere letale al punto che il tabloid americano Globe ha invitato il fan a privare per la cantante che nonostante la migliore assistenza medica sta peggiorando giorno dopo giorno L'infezione, contratta durante l'ultimo tour che le ha fatto annullare le 29 date rimanenti, ha colpito i reni, rallentando il processo di guarigione Qualcuno si spinge ad affermare che, se non sottoposta a trapianto, avrebbe solo 3 minuti Qualcuno si spinge ad affermare che, se non sottoposta a trapianto, avrebbe solo 3 minuti